torna l'appuntamento con pane e rosmarino ben trovati abbiamo sempre una curiosità una riflessione da condividere con voi tra cibo territori e sostenibilità stavolta a tenere banco sono le consegne a domicilio a chi non piacciono non ci credo sono comode ma la vera domanda invece sono anche sostenibili economicamente dipende dalla vostra bravura a livello ambientale non proprio purtroppo la crescita dell'home delivery è responsabile oggi del 3 per cento delle emissioni globali di gas serra ma entro il 2050 secondo quanto svelato in un articolo del the washington post l'impatto salirà al 17 per cento insomma il settore del trasporto merci è responsabile di un quinto delle emissioni globali di co2 dietro soltanto al settore energetico è l'elettrico la chiave per ridurre le emissioni di co2 e ripulire l'area delle aree urbane delle grandi metropoli un tassello importante quello dell'ultimo miglio che è oggetto di analisi e di riflessioni le aziende di trasporto investite dai grandi affari delle consegne a domicilio sono chiamate a ripensare al proprio parco macchine c'è la necessità proprio come per le automobili di noi privati cittadini di un'accelere predisposizione ad acquistare veicoli elettrici maggior silenzio ed emissioni zero possono rivoluzionare alcune condizioni che riteniamo incontrovertibili accesso alle zone a traffico limitato minore manutenzione spese di rifornimento ed assicurative inferiori sono numerose insomma le ragioni per cui l'elettrico è davvero un buon affare i cambiamenti spaventano certo ma è necessario rivedere abitudini che di fatto danneggiano noi e l'ambiente in cui viviamo continuate a segnalarci argomenti di interesse all'indirizzo email redazione chiocciola rosmarino news punto it noi ci risentiamo la prossima settimana sempre qui su radio mpa nel frattempo seguite i social di rosmarino news ed anche i miei mi trovate cercando antonella petitti food trotter alla prossima